Un porto che affonda nella melma. Questa è la cartolina di oggi, 8 agosto, dello scalo pesarese avviluppato nelle mucillagini che stanno condizionando quest'estate. Un effetto ottico particolare estremizzato nel luogo in cui le acque faticano a circolare, ma che enfatizza un fenomeno che sta facendo zoppicare il turismo balneare di questo 2024 e che soprattutto mette in gravi difficoltà il comparto della pesca, sia strascico che d'altura. Proprio questa mattina l'assessora Francesca Frenquellucci, che detiene la delega alla pesca, ha incontrato una rappresentanza delle cooperative di pescatori. Comune che ha fatto da cassa di risonanza alla regione, ente competente sulla questione, in merito alle criticità che gravano sui 15 pescherecci e sulle tre vongolare presenti a Pesaro, che coinvolgono circa 50 famiglie impegnate nel mercato ittico. Una filiera che poi si allarga al commercio, alla ristorazione e che ulteriormente è penalizzata dal fermo pesca che fino al 31 ottobre consentirà l'uscita in mare solo alle piccole barche e solo oltre le 6 miglia. Si confida dunque in un sostegno di ristori derivati dai prossimi bandi regionali di settembre, mentre per quel che riguarda le proprie competenze il Comune ha raccolto oggi alcune idee che si proverà a tradurre in progetti concreti e duraturi, come quello dell'installazione di un impianto di fornitura del ghiaccio che oggi a Pesaro Manca, a differenza di Fano Cattolica.